Cartablet dedicato Mercedes GLC 10.25 pollici Android 10 4 giga di ram rom 64 giga con recupero funzioni totali auto andiamo subito nel dettaglio qui andiamo a recuperare il joystick centrale partiamo subito dalla dashboard poi per tutte le auto che hanno il pacchetto luci ambient andiamo a recuperare anche il pacchetto luci ambient poi abbiamo gestione musica tramite le USB recupero comandi al volante finalmente si è risolto il problema dell'audio con il video che l'audio era un pochino di ritardo adesso coincidono perfettamente quindi per tutte le macchine Mercedes che non hanno l'AUX originale con questo prodotto siamo andati a compensare il ritardo audio andiamo avanti andiamo direttamente in app vediamo un video velocizziamo un pochino DSP dove abbiamo tutte le regolazioni Android Auto Apple CarPlay Google Viale Palmino Togliatti 600 vediamo l'audio adatto ecc ξ e siamo su Maps infine andiamo a vedere tutte le funzioni originali perché sono importanti dove il cliente può fare tutte le setup di agnosi di veicolo NTG in mode, siamo in originale, andiamo in radio quindi possiamo cambiare abbassiamo il volume possiamo cambiare qui i sfondi e poi gestire tutte le funzioni originali della macchina qui abbiamo supporti, vettura impostazioni vettura passiamo un attimo l'audio e qui potrà fare tutte le informazioni, setup come vedete è migliorata anche la grafica in originale tutte le funzioni originali come vedete rimangono in essere mettiamo in moto proviamo anche la dashboard questa è la telecamera linee guida attive funzionerà anche in Android vediamo subito tac togliamo e proviamo la retrocamera anche in Android perfetto usciamo e proviamo la dashboard guarda guarda Grazie a tutti